Un weekend di primavera a spasso per chiese, borghi, castelli, musei, giardini, teatri e tutti quei beni storici aperti ai visitatori grazie alle giornate FAI. Ventesima edizione, presentata in Regione per una nuova liaison, fondata su un obiettivo comune, puntare sulla cultura come opportunità di valorizzazione di risorse preziose. Siamo veramente contenti di ospitare per la prima volta le giornate del FAI qui nelle Marche perché c'è un intreccio di intenzione e di programmi di attività. Il volontariato del FAI riesce a allargare la conservazione e la fruizione di importanti beni culturali e monumentali. La Regione è impegnata su questo versante e quindi ci è sembrato naturale intrecciare la nostra attività. Siamo anche interessati a sviluppare un sistema di convenzioni per affidare beni in gestione sia di carattere regionale che favorire quello di carattere comunale oppure provinciale per quello che riguarda il FAI. Abbiamo poi un grande interesse per quello che riguarda l'apertura di musei, pinacoteche, biblioteche con personale volontario qualificato che è un progetto che stiamo traducendo in via pratica in queste settimane. La festa in piazza dedicata all'ambiente e alla cultura si svolge sabato 24 e domenica 25 marzo in tutte le regioni per milioni di visitatori alla scoperta di tesori nascosti custoditi nelle città e soprattutto nell'entroterra. È una scelta ben precisa determinata dal fatto che le nostre colline, le nostre montagne, le nostre colline sono indubbiamente in misura minore conosciute rispetto alla marina. Noi come Marche certamente si è fatto molto, la bit di Milano di quest'anno con le Marche esplodiamo e portiamo avanti questo discorso. Certamente i nostri paesi e i nostri borghi sono da rivitalizzare, se è tutto insieme io sono sicura che ce la facciamo. Nelle Marche, tra gli altri, si aprono le porte della Chiesa del Gesù a Dancona, della Bezzia Benedettina di San Michele Arcangelo ad Arcevia, della Sala del Fogolino nel Palazzo Vescovile di Ascoli Piceno, del Palazzo Pelagallo di Fermo, del complesso monumentale di Santa Chiara d'Urbino e di Palazzo Leopardi nel Piano Nobile a Recanati.